Aeree a terra per un mese all'aeroporto Fellini di Rimini, nella speranza che sia solo un mese. Le due compagnie di bandiera Alba Wings e Pobeda, la prima albanese e la seconda russa, hanno cancellato tutti i loro voli per lo scalo romagnolo fino al 3 aprile, data in cui scadrà l'attuale decreto italiano per il contenimento del coronavirus. In un primo momento queste compagnie avevano limitato il numero di voli settimanali da Tirana a Mosca. Ora tutti coloro che avevano un volo prenotato se lo sono visti cancellare. L'aeroporto, come ci riferisce l'ufficio stampa, in questo mese resterà aperto anche se senza voli in attesa di avere indicazioni da Enac e dagli altri enti preposti su come comportarsi. Quel che è certo è che il numero di passeggeri del Fellini, che da qualche anno è sempre stato in crescita toccando le 400.000 unità a fine 2019, subirà la sua prima flessione in questa prima parte dell'anno. Il futuro è incerto per i flussi sia in entrata che in uscita e a volare via da Bologna, dopo l'istituzione della zona arancione, ci hanno provato 10 riminesi che avevano in programma un viaggio di piacere in Tunisia. Le nuove norme non consentono di spostarsi né tantomeno di andare all'estero, salvo che per comprovati motivi di lavoro o di salute. Ai controlli all'aeroporto Marconi, dove erano andati per imbarcarsi, gli ingenui turisti non hanno saputo giustificare il viaggio e dunque sono stati respinti.